Conto alla rovescia per il transito del Giro d'Italia che il 24 maggio attraverserà nel Vicentino anche Bassano, Rosà e Rossano nella 17esima tappa Pergine-Valsugana-Caurle. Un evento atteso da tantissime persone che seguiranno il passaggio dei campioni delle due ruote. La città, i pieri del Grappa, sarà divisa in due, da Campese sino a Via Carpellina, con relative chiusure delle strade da mezzogiorno alle 14.45. Il Giro d'Italia passerà lungo la Campesana, attraverserà il Ponte Nuovo, Viale De Gasperi, Vecchistro a Foro Colombo, Via Carpellina, per poi andare a Rosà, Rossano e lasciare la provincia di Vicenza verso Treviso. Chiusa anche la statale 47 Valsugana sino al centro di Rosà, qui traffico interdetto verso Rossano con divieto e ritransito lungo la regionale 2.45. Chiusure che andranno a ripercuotersi inevitabilmente pure sulle attività che si affacciano sulle strade in questione. Le aziende che si trovano in questo tratto saranno impossibilitate in quelle due ore sia a ricevere i fornitori, sia a far partire i camion dei clienti, ma soprattutto gli operai non potranno lasciare le aziende o per il cambio turno o per la posa pranzo. Quindi viene lanciato un appello proprio anche a loro per una organizzazione? Sì, l'appello è auto-organizzato in qualche modo, fatto in modo che gli operai spostino i turni di lavoro o in qualche modo possono fluire della posa pranzo in sede. Il transito del giro andrà a influire anche sugli orari scolastici? Le scuole del territorio verranno chiuse alle ore 11, eccetto per quelle classiche che osserranno il tempo pieno. Trasporto scolastico adeguato anche a questi nuovi orari? Adeguato e garantito, assolutamente. E allora non resta che attendere il passaggio del flusso rosa.